Con Conto Arancio hai l'interesse Senza fare un tasso Metti i soldi quando vuoi, li togli quando vuoi Fai qualche tasso vuoi Ma questo interesse, ma quanto ti desse? Senza fare un tasso Con Conto Arancio Per i primi tre mesi hai il 3% E poi lo 0,5 Chi aspetti? Scegli ING